Mi chiamo Cecil Kienge, ho 48 anni, sono nata nella Repubblica Democratica del Congo e ora sono cittadina italiana. Sono medico-culista, membro del Forum Nazionale dell'Immigrazione del Partito Democratico. Sono anche consigliere provinciale del Partito Democratico di Modena nella Commissione Welfare e Politiche Sociale. Attualmente sono responsabile delle politiche dell'immigrazione, sempre del Partito Democratico, nella Regione Emilia-Romagna. Sono portavoce nazionale della rete Primo Marzo. Da anni mi occupo di politica attiva, cercando di portare bisogno dei cittadini alle istituzioni. Considero Welfare, lavoro ed equa cittadinanza, beni comuni, che vanno ripensati, preservati e difesi. Promuovo una nuova strategia di convivenza, pari opportunità, rispetto delle differenze, rispetto dell'integrità della persona e rispetto dell'ambiente. Il mio sogno? Sì, sogno un paese cosmopolita e disarmato con una seria politica internazionale, valorizzando la cooperazione fra i vari Stati. Voglio rendere ogni cittadino e cittadina partecipe delle decisioni pubbliche, protagonista del cambiamento sociale, economico e culturale in atto, per una nuova Italia più giusta ed equa. Ho bisogno del tuo sostegno personale per portare avanti questi principi. Perciò ti chiedo di sostenere il cambiamento che, assieme al Partito Democratico, vogliamo avviare nel Paese perché più nessuno resti senza voce o privo di rappresentanza. Grazie a tutti.